Allora, abbiamo finito? Gustavo, sei fantastico! Tornando come sei! Benissima, divina! Ci vediamo la prossima! Vai cara, ciao! Ciao bella, ciao! Beh, allora che tocca, andiamo? Gustavo, è il mio turno adesso! Madonna, come sei fuori! Anche tu non scherzi cara! Senti che facciamo stasera? Un bel caschetto? Non sono scalato! O vuoi qualcos'altro? Ma io farei solo una bella coda! Allora, mettiti in fondo là, che nel frattempo servono gli altri per i clienti! Vi aspetta! E falaco! E falaco! Andiamo che tocca, andiamo un'altra! Adesso tocca a me! Oh sorella! Devo fare una messa in pieca! Vieni cara, accomodati! Prego! Sono sorella!